Buongiorno professor Krinke, oggi che cosa ci propone per questa rubrica di tre minuti di attualità ma anche di preparazione al momento della Pasqua? C'è forse una parola o una virtù che ci ha insegnato magari anche la volta scorsa che in questo momento ne sentiamo veramente bisogno? Infatti direi passiamo dalla prima virtù teologale, la prima virtù che ci trasmette anche la fede cristiana ma che possiamo scoprire tutti in quanto siamo cittadini di una società formata dal cristianesimo ormai da duemila anni, alla seconda è la speranza. Infatti caro Francesco, cari ascoltatori e ascoltatrici, è un bel momento per riflettere su alcuni punti che hanno segnato anche la sapienza di secoli, di millenni e che forse nella frenesia della nostra quotidianità, della nostra società consumistica, abbiamo un po' perso. Che cosa è la speranza? Chi sente speranza in questi giorni magari pensa agli arcobaleni che abbiamo messo sui cartelli, che abbiamo messo fuori dai nostri balconi. L'arcobaleno è un segno della speranza. Nella Bibbia lo troviamo ovviamente nella Genesi, dopo il grande diluvio, ma quando è arrivato il lago baleno? L'arcobaleno è arrivato quando è passato. Dio ci dà non la speranza in un certo senso quando ci troviamo in mezzo al diluvio e una speranza può anche sembrare vana o vuota. Dio ci dà la speranza perché ci dà allo stesso momento il terreno solido sotto ai piedi. Infatti speranza non vuole soltanto dire andrà tutto bene, è un bellissimo messaggio, ma la speranza ci vuole anche riflettere quali sono le nostre condizioni di oggi che possono darci già fiducia nell'oggi che un domani andrà tutto bene. Quindi in altre parole la domanda che cosa va già bene oggi? In effetti in questo momento dell'emergenza non è che tutto va male. Tanti momenti positivi della nostra vita che possiamo riscoprire oggi, che cosa abbiamo veramente nella nostra vita e che cosa abbiamo nella nostra vita che un domani ci può dare una base poi per ripartire dopo questo momento di emergenza. Friedrich Nietzsche una volta diceva che la speranza è l'arcobaleno, anche lui utilizzava l'immagine dell'arcobaleno, sopra il roscello irruente della vita che precipita in basso. Forse questo non è esattamente l'idea di speranza che abbiamo noi, perché non vogliamo che la nostra vita rovescia o precipita in basso sotto questo arcobaleno. Questo messaggio forse è anche appropriato agli imprenditori, chi ha un'impresa, l'impresa in questi momenti, in questi giorni sta ferma. Questo non vuol dire che deve lasciare perdere, che deve lasciare andare questi giorni e insieme con questi giorni diventa sempre meno la base di questa propria azienda sulla quale voi dopo deve far ripartire tutto. La responsabilità che ha verso i suoi dipendenti, la responsabilità che ha verso la società in quanto produce. Quindi proprio per gli imprenditori la speranza in questi giorni, la speranza fondata, la riflessione, che cosa ho e come posso mettere quello che ho come base della ripartenza in un domani è molto importante. Speranza è anche, questo è l'ultimo momento di questa mia riflessione, ho letto una bella frase, uomini grandi sono quelli che sanno dare speranza. Che cosa vuol dire questa speranza? È sempre una speranza fondata, uomini grandi non sono quelli che ci dipingono il futuro in qualche modo stupendo, ma in qualche modo anche irrealistico. E un grande uomo non è meno quello che è troppo pessimista e non ci dà nessuno spunto, nessun argomento, nessuna prospettiva credibile per essere speranzosi domani. Forse questo momento è anche un bel momento per capire chi sono grandi uomini oggi. E se pensiamo ai mass media, lì ci sono veramente molti che non ci danno speranza, che con i fake news, che con le notizie che passano, ci mettono più paura che non speranza. Quindi questo momento, la virtù della speranza, ci dà anche in un certo senso il giusto discernimento nei nostri giorni. Auguro infatti a tutti noi che la possiamo scoprire in qualche modo in queste settimane. È un auguro che è contraccambio e la ringrazio professore per questi nuovi spunti e questa nuova riflessione. Ci sentiamo la prossima settimana con un altro spunto su cui riflettere. Grazie a tutti voi, alla prossima settimana.